Stadio De Marsi, campo principale in eccellenza, 90 minuti che dovranno dire se il campionato potrà essere ancora aperto a più soluzioni nella lotta al vertice. Oltre ad essere una sfida sentita, Avezzano L'Aquila mette in paglio punti cruciali per l'alta classifica. Marsicani attualmente primi con 10 punti di vantaggio, rosso-blu terzi, ma con due gare, casalinghe da recuperare. E per questi motivi, con eventuale successo dell'Aquila, scottata dalla sconfitta di Coppa in settimana, potrebbe riaprire totalmente i giochi. Non mancheranno le assenze, da una parte e dall'altra, su tutti gli squalificati Zanon e Dercole, uno per parte. Seguirà con grande interesse il confronto del De Marsi, il Giulianova, 5 punti dietro l'Avezzano. Gli uomini di Cerasi non vincono proprio dal 13 febbraio, dal giorno dello scontro diretto, ed hanno racimolato 3 punti negli ultimi 4 turni. Riscatto però non facile, visto che il Lanciano, avversario Alfadini, è stato capace, non più tardi di 10 giorni o sono, di fare uno scherzetto alla prima della classe. Dopo tre rinvii, gli ultimi due dovuti al Covid, torna in campo l'Alba Adriatica, che al Vallese ospiterà il Capistrello. Inizierà, per i Rossoverdi, un vero e proprio tour de force con diverse sfide ravvicinate. Primo di due impegni consecutivi al Castrum per la Torrese, che ospiterà lo Spoltore. Anche ai giallorossi la vittoria manca da qualche settimana, ma guai a sottovalutare gli azulgranati di Camillo, che hanno bisogno di punti. Gara che promette spettacolo, infine, quella tra Casalbordino e Ponte Romano, visto che si affrontano due formazioni tra le più in forma del campionato. Grazie. 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 Grazie.